Allora, l'obiettivo di oggi è riprendere dove ci siamo lasciati la volta scorsa, quindi un breve e velocissimo riepilogo sulle classi wrapper. Abbiamo visto che le classi wrapper ci consentono di fare due cose, sostanzialmente. Quindi, uno, poter trattare degli oggetti, poter trattare come oggetti anche dei valori che naturalmente in Java sarebbero dei tipi primitivi, oppure l'altra possibilità, l'altro vantaggio che ci danno le classi wrapper è di avere tutte quelle funzioni di conversione, come ad esempio il parseInt, o il valueOf, o il toString, che ci permettono di fare delle operazioni di conversione o anche altre operazioni comunque legate a quel tipo specifico. Per quanto riguarda i tipi primitivi, abbiamo visto che ce n'è uno per ogni, scusate, le classi wrapper ce n'è una per ogni tipo primitivo, e le conversioni sostanzialmente funzionano in questo modo. La volta scorsa, alcuni di voi mi avevano detto che avevano un warning, un errore, scrivendo costruttore di integer. Effettivamente mi sono accorto che in realtà la vostra configurazione era corretta, perché avete installato il JDK 11, invece il mio Eclipse era andato a prendere la libreria vecchia, avendo io installato un certo numero di versioni di Java, era andato a prendermi la libreria del JDK 8, e quindi non mi segnalava questo errore. Quello che vedete qua sostanzialmente mi dice che integer è deprecato. Integer, il costruttore di integer è deprecato a partire da Java 9, ok? Quindi diciamo che il linguaggio di riferimento nostro per questo corso è il linguaggio 8, quindi è sostanzialmente un qualcosa che è successivo al nostro riferimento. Però è bene saperlo perché così evitate di utilizzarlo. Il modo preferito rispetto a utilizzare un costruttore è usare questo metodo statico che si chiama value of. Value of fa sostanzialmente la stessa cosa. Crea un oggetto integer a partire dall'intero. Qual è il vantaggio di utilizzare value of? Qualcuno riesce a indovinare perché può essere vantaggioso costruire un oggetto chiamando un metodo invece di andare a chiamare direttamente l'operatore new? Per effettore più controlli. Allora, non in questo caso, nel senso che un costruttore può comunque fare tutti i controlli che vuole. E' ovvio che se un costruttore scopre che c'è qualcosa che non va, ad esempio, nei parametri, l'unica cosa che può fare è terminare e lanciare un'eccezione, cosa che di solito è traumatica, mentre invece un metodo potrebbe restituire null, ad esempio. Velocità di esecuzione, valore di ritorno. Allora, metto assieme le ultime due risposte, ovvero velocità di esecuzione e valore di ritorno. L'idea è, immaginate, soprattutto in questo caso, in un programma molto grande, quante volte andrò a creare un oggetto integer che ha come valore 1? Magari tante, o due, o tre, comunque i valori piccoli. Invece di creare ogni volta un nuovo oggetto integer e andare a, quindi, allocare la memoria, chiamare il costruttore, eccetera, eccetera, io posso tenermi di scorta gli oggetti integer che corrispondono ai numeri da 1 a, Java lo fa fino a 127, credo, e invece di creare l'oggetto andare a restituire quello che è già presente. Quindi è più veloce e il valore di ritorno sostanzialmente è un valore di ritorno che è preso dalla cache invece di essere creato al volo. Quindi è più veloce e complessivamente occupa anche meno memoria. Ed è un po' qualcosa che fa anche la classe string, di cui vedremo poi i dettagli più avanti. Quindi, in questo modo abbiamo un po' di vantaggi in termini di prestazione, sia di memoria che di velocità. A parte questo, e sostanzialmente a parte il fatto che quello potrebbe essere un costruttore che in tempi futuri, però stiamo parlando di qualche anno, insomma 5-10, non domani, verrà poi eliminato. Quindi se vogliamo essere sicuri che il nostro codice funzioni su versioni molto future di Java, ecco, tendenzialmente non dovremmo utilizzarlo. L'altro, oltre a essere quello preferibile, ha anche qualche piccolo vantaggio in termini di prestazione. Ora, perché io posso fare questa operazione con il metodo value of? Ovvero perché posso andare a restituire degli oggetti già creati precedentemente? Perché sostanzialmente una caratteristica fondamentale di tutti gli oggetti delle classi wrapper è che sono tutti oggetti immutabili. che vuol dire che non posso andare a cambiare il valore che è contenuto dentro l'oggetto. L'unica cosa che posso fare è andare a creare dei nuovi oggetti. Piccolo esempio sul codice. Andiamo a definire un oggetto integer wrapper1 uguale 42 andiamo a mettere un altro oggetto integer wrapper2 che è uguale a wrapper1 ok allora attenzione l'assegnazione che io ho fatto qua è un'assegnazione tra riferimenti ok quindi w2 e w1 sostanzialmente puntano allo stesso oggetto quindi quell'assegnazione lì è relativamente poco costosa ok copio una variabile quindi cosa succede quando vado a fare fatemelo scrivere così system.out.println w1 uguale uguale a w2 più w1 uguale uguale a w2 allora abbiamo un'eccezione ah eccola qua perché c'era l'eccezione qua sopra l'errore che abbiamo presso la volta scorsa scusate riparto e quindi sostanzialmente ho come valore true ok attenzione però quel questo questo uguale uguale è un uguale uguale tra riferimenti ovvero mi dice se i due riferimenti puntano allo stesso oggetto se io a questo punto faccio w2 uguale a new integer di 42 è deprecato ma non importa noi vogliamo creare un nuovo oggetto quello che otteniamo è false ok attenzione perché questa cosa può essere non molto intuitiva ovvero quando io ho due variabili tipo riferimento il confronto è sempre tra i riferimenti quando io faccio w1 uguale a 42 esattamente come dicevamo la volta scorsa qui dentro c'è in realtà un viene convertito dal compilatore in un integer appunto value of 42 allora in questo secondo caso ovviamente w1 e w2 cioè gli oggetti puntati da w1 e w2 sono due oggetti distinti quindi stanno in due locazioni di memoria diverse esattamente tenete presente che se invece di fare questo vado a fare questo integer punto value of 42 quello che ottengo di nuovo true perché perché abbiamo detto che value of che cosa fa va a vedere se esiste già un oggetto che contiene 42 me lo restituisce e quindi non mi crea un nuovo oggetto ma me ne dà già quello che è presente quindi se io faccio w2 uguale a w1 e poi vado a vedere il risultato ottengo false se faccio w2 scusate uguale a new eccetera di sostanzialmente lo stesso valore ottengo false se faccio se faccio w2 uguale integer punto value of fai mettere 42 così le stampe sono un pochettino più significative quello che ottengo è tra l'appunto true quindi se copio riferimento ovviamente ho copiato riferimento quindi i riferimenti sono per costruzione uguali se vado a creare un nuovo oggetto è ovvio che ho creato un nuovo oggetto e quindi sarà diverso il riferimento ok di nuovo per costruzione se utilizzo value of come vi accennavo prima il metodo che cosa fa invece di restituirmi il valore precedente che cosa fa mi restituisce lo stesso oggetto di prima domanda poi torno alla domanda di Lorenzo sopra questo vale per 42 vale per qualunque oggetto o per i primi 127 numeri allora possiamo verificarlo quello che leggevo nella documentazione i primi 127 gli oggetti corrispondenti ai primi 127 numeri sono già stati creati in partenza e quindi non devo neanche crearli gli altri ragionevolmente sono messi in cash quindi possiamo farlo in maniera molto semplice invece di mettere 42 vado a mettere 142 e vediamo il risultato true false e false quindi nell'ultimo caso non mi fa il cash scusate provo a scrivere qua direttamente lo stesso metodo perché non sono sicuro che chiami quello ok così ok true false e false ok quindi vuol dire che non fa il caching dei numeri sopra il 127 ok considerazione più generale relativamente a questa quest'ultima domanda se avete dei dubbi su come funziona java ed è una cosa minima il mio consiglio è aprite un nuovo file con un main scrivetevi 5 righe di codice e vedete cosa succede ok il grosso vantaggio è che avete un controllo molto preciso su quello che state facendo quindi la domanda che voi fate la fate sostanzialmente al compilatore alla java virtual machine che vi rispondono in termini di quello che succede che è quello che ho fatto io adesso ok non sapevo se veniva fatto un cache dei numeri oltre il 127 e quindi cosa ho fatto ho sostanzialmente modificato l'esempio che avevo già fatto prima per verificare se tutto va bene allora vi riscrivo la stessa cosa due volte ok metto il tutto tra graffe e scrivo una volta 42 che è quello che avevamo scritto all'inizio cancello qualche riga intermedia così magari ci sta tutto nella stessa schermata e riusciamo a vederlo meglio allora vi dico adesso vi spiego cosa ho fatto e poi vediamo il risultato allora vedete che ho messo qui due blocchi di testo racchiusi tra graffe ogni volta che io vado a definire un blocco di testo le variabili definite in quel blocco sono limitate a quel blocco ok esattamente come in come in C i due blocchi di codice sono esattamente identici ok fatemi aggiornare il testo l'unica differenza è che in un caso vado a utilizzare 42 come valore del numero che metto dentro l'integer nell'altro caso invece vado a utilizzare 142 1 uguale a 42 e qui vado a mettere w1 uguale a 142 a questo punto se eseguo il programma che cosa succede? che quando copio il riferimento ovviamente i due riferimenti sono uguali quando vado a fare un new ovviamente i due riferimenti sono falsi e questo è vero sia per il 142 che per il 42 quindi o true e false ok ma per costruzione se copio il riferimento è ovvio che il riferimento è uguale se creo un nuovo oggetto è ovvio che il riferimento è diverso la differenza cambia quando vado a fare un integer value of di 42 e in questo caso i riferimenti sono uguali perché perché il metodo value of fa sostanzialmente caching dei numeri fino a 127 e quindi 42 e minore di 127 il che vuol dire che tutte le volte che vado a creare un integer minore con un valore minore di 127 invece di creare l'oggetto vado a restituire sempre lo stesso la cosa non succede con valori maggiori di 127 ad esempio 142 perché in questo caso il metodo value of che cosa fa semplicemente va a chiamare il costruttore di un nuovo oggetto e quindi in questo caso i due riferimenti sono diversi ok per cui come come vi accennavo prima in generale è raccomandato l'uso di integer value of perché in molti casi quando ho dei valori numerici sotto 127 risparmio memoria e risparmio tempo è il motivo per cui il costruttore di integer è stato dichiarato come deprecato ok perché l'altro ci dà lo stesso risultato ed è più efficiente non sempre ma in alcuni casi c'era una domanda prima che diceva sì va bene questo è il confronto tra riferimenti però a me interesserebbe andare a fare il confronto tra i valori cioè me ne frega nulla se il 142 è memorizzato due volte in due posti diversi io voglio sapere se normalmente quello che io voglio fare è sapere se effettivamente i due oggetti integer sono uguali in termini di valore non di oggetto che li contiene ok quindi come faccio a fare il confronto beh il confronto lo posso fare e ve lo faccio in questo secondo caso quando i due oggetti sono per costruzione diversi non faccio più w1 uguale a w2 ma quello che posso fare è o andare a dire w1 punto int value uguale w2 punto int value punto int value quindi vado a estrarre il valore intero da tutte e due punto ok possibilità 1 l'altra possibilità che è diciamo quella un pochettino più utilizzata in generale è di andare a dire w1 punto equals w2 quindi w1 punto equals aperta tonda e poi w2 come parametro quindi in questo caso che cosa succede che quando usate playing music riavvio perché mi è sparita ecco qua quando sostanzialmente il confronto tra gli int value ho esattamente lo stesso valore ok true oppure ho di nuovo un valore true quando faccio equals ok quindi in generale il modo corretto di andare a confrontare due valori è utilizzare due valori che stanno dentro degli oggetti è utilizzare il metodo equals il metodo equals e questo è il bello non vale soltanto per i tipi wrapper ma vale in generale per qualsiasi oggetto in java ok quindi in java quando voi volete andare a confrontare non i riferimenti ma bensì quelli che sono i valori che stanno dentro gli oggetti referenziati dovete utilizzare equals domanda quindi incluso come metodo in tutte le classi che creo la risposta breve è sì quindi ogni volta che io creo una classe esiste un metodo equals la risposta lunga è tuttavia il il funzionamento di equals senza nessun intervento nostro di solito non può funzionare correttamente quindi quando vado a definire io una classe devo poi andare a definire esplicitamente il metodo equals in modo che faccia il confronto secondo i criteri che so io che sono il creatore della classe ok quando faccio value of allora domanda di Francesco quindi se io vado a fare un'operazione di new creo sempre un nuovo oggetto se vado a fare un'operazione di value of se il valore che ho specificato è minore di 127 mi dà quello che è già memorizzato internamente al metodo e quindi tra virgolette non fa caching ma attinge da un pool di oggetti pre-allocati per le classi wrapper e anche per string come suggerivo un attimo qualcuno di voi in chat il metodo equals è definito quindi se voi andate a utilizzare le classi wrapper tutte e utilizzate string quello che potete andare a fare è confrontare i valori utilizzando equals va bene e ovviamente come dicevamo un attimo fa l'operazione di creazione degli oggetti sono pesanti quindi ogni volta che io vado a creare un nuovo oggetto effettivamente mi porta via della memoria e del tempo di esecuzione questo è questo è il motivo per cui sostanzialmente quando Java è stato concepito sono stati definiti i metodi scusate i tipi primitivi come un meccanismo così più efficiente di andare a fare operazioni su questo tipo di valori per cui tanto per darvi un riferimento ecco quello che ho fatto qua è sostanzialmente un'operazione che voi potete replicare in maniera del tutto analoga che cosa ho fatto ho scritto un metodo main con una chiamata al metodo nanotime nanotime è un metodo predefinito dentro la classe system che sostanzialmente mi restituisce come suggerisce il commento il tempo di sistema ok scusate qua ok quindi mi dà il tempo di sistema java in nanosecondi quindi memorizzo dentro questa variabile tipo long ovviamente visto che i nanosecondi passano molto velocemente in un nanosecondo per l'appunto sono tanti e quindi questo contatore è memorizzato in una variabile di tipo long 64 bit intero poi che cosa faccio vado a scrivere un ciclo for in cui la variabile indice è un integer e dove vado semplicemente a dire i uguali a 0 i minore di max e i più più i più più i attenzione non fatevi ingannare non incrementa il valore che sta dentro i ma crea un nuovo oggetto che contiene il valore di i più uno e fa puntare il riferimento i al nuovo oggetto fatto questo ciclo per max volte max in questo caso è un milione vado a prendere il nuovo tempo di sistema e lo metto dentro la variabile end e poi sostanzialmente vado a stampare la differenza tra il tempo finale meno il tempo iniziale diviso max e in pratica vado a calcolare il tempo necessario per fare un'iterazione in nanosecondi sotto faccio la stessa cosa con un tipo intero vedete che è esattamente identico l'unica cosa che cambia è il tipo della variabile qui è un int e qui è un integer se eseguo salvo il tempo è 16 nanosecondi per iterazione nel primo caso e 2 nanosecondi per iterazione nel secondo ok circa approssimativamente un ordine di grandezza 10 volte più lento l'integer perché devo andare a creare gli oggetti ogni volta ok quindi in generale attenzione a utilizzare i tipi primitivi quando è possibile perché l'utilizzo dei tipi integer vi peggiora significativamente le prestazioni sostanzialmente dire più più i equivale a ve lo metto come commento altrimenti mi equivale sostanzialmente a scrivere i è uguale a integer punto value of i punto int value più uno all'inciaca poi il compilatore fa qualche piccolo qualche piccola ottimizzazione ma questo è sostanzialmente quel il codice in cui viene tradotto l'ip più o il più più i quindi l'efficienza del dei tipi primitivi si vede e come ok torno un attimo indietro si può fare un equals usando int value esattamente come ho fatto quasi la grossa differenza per l'appunto è che i tipi primitivi ovviamente sono mutabili nel senso che posso tranquillamente andare a scrivere il valore dentro e cambiarlo mentre invece i tipi wrapper come pure le stringhe sono dei tipi immutabili domani in questo caso qui c'è differenza tra fare più più i e i più più sostanzialmente no nessuna perché tanto quel valore lì non è non è visualizzato potrei anche scrivere tranquillamente i uguale a i più 1 è assolutamente identico domanda la creazione di un nuovo oggetto può diventare un problema per la memoria ragionevolmente sì tenete conto che gli oggetti tipo integer sono veramente piccoli e quindi sì però se avete poca memoria è un certo punto satua e tenete conto anche che quando io vado a fare un i più più o un i più più i o un i uguale a i più 1 tutti tradotti sostanzialmente nello stesso modo vado a sostanzialmente eseguire questo codice che vi ho iniziato qui che vuol dire che praticamente l'oggetto precedente quello che ho incrementato viene perso quindi a un certo punto può essere tranquillamente rilasciato quindi sì la memoria si riempie ma quegli oggetti vengono trattamente rilasciati dalla virtual machine quando è necessario o periodicamente quindi c'è un qualche qualche piccolo qualche piccola differenza ma sostanzialmente in termini di memoria non ho una grossa perdita sì la uso ne uso tanta ma questa poi viene rilasciata quindi quello è l'impatto se volete minore domanda il metodo equals confronta tutto ciò che è presente negli oggetti o solo il valore degli attributi il metodo equals confronta quello che chi ha scritto la classe decide di confrontare quindi nel caso degli interi confronta il valore nel caso delle stringhe confronta i caratteri quindi semplicemente fa un controllo specifico per l'oggetto se io ho degli oggetti molto complicati posso decidere di fare un confronto che non si non va a confrontare tutti gli attributi ma ne confronta soltanto alcuni ok quindi il metodo equals io lo posso definire come voglio torneremo comunque a parlare del metodo equals quando parleremo di ereditarietà e quando andremo a vedere come il metodo equals è automaticamente imposto su tutti gli oggetti ok velocemente static final significa che questo è una costante ok final vuol dire che non può essere modificato static vuol dire che ce n'è una copia sola ci torniamo è sostanzialmente il pezzettino di lezioni che manca ancora prima di concludere la panoramica su sulle caratteristiche base della sintesi java e quindi in generale sappiate che ogni volta che io devo andare a definire una costante metto static final e quel valore lì è costante infatti vedete che ho utilizzato la solita convenzione di mettere tutto maiuscolo perché è una costante torno un attimo agli esempi esattamente come esiste il equals io potrei voler fare un confronto un pochettino più sofisticato quindi semplicemente non andare a vedere se i due oggetti sono uguali ma andare a vedere chi è più grande e chi è più piccolo so se vi scappasse di implementare che so un quick sort un ip sort un merge sort o qualche altra cosa utilizzando degli integer ecco dovreste fare un confronto sicuramente potete estrarre gli interi ok però se se volete evitare di estrarre i valori interi e di confrontarli per fare un confronto tra due valori integer io posso andare a dire w1 maggiore di w2 ok diciamo boolean confronto uguale a questa cosa qua questo che cosa fa? sostanzialmente mi tira fuori gli interi quindi mi fa l'unboxing intervalue e me li confronta un'altra possibilità è dire che il confronto può essere fatto utilizzando il metodo w1 punto compare to w2 questa cosa qua mi restituisce scusate però non è un confronto ma bensì è un intero compare to mi restituisce sostanzialmente un valore maggiore di zero se w1 è maggiore di w2 un valore uguale a zero se w1 è uguale uguale a w2 i valori e attenzione quindi se volete equals e un valore minore di zero nel caso in cui w1 sia minore di w2 quindi w1 uguale uguale w2 confronta riferimenti mentre w1 maggiore di w2 confronta gli oggetti sì è un pochettino forse poco intuitivo può confondere però funziona così quando io w1 e w2 non potendo confrontare con il maggiore dei riferimenti automaticamente il compilatore mi fa l'unboxing e quindi mi estrae gli int value e confronta quelli quando ho un uguale uguale tra riferimenti visto che possiamo confrontare riferimenti ecco che mi confronta i riferimenti e non mi fa nessun unboxing domanda perché ho messo qui un boolean perché quando faccio un confronto tra integer tra int o qualunque cosa il risultato è un valore booleano quindi il risultato del confronto lo posso mettere dentro una variabile booleano domanda il minore maggiore non vale per tutti gli oggetti ovviamente no vale per gli oggetti che hanno un ordinamento che può essere ovviamente applicato quindi per i valori numerici per i tipi wrapper dei valori numerici io ho il minore il maggiore e quindi anche il compare to se io ho altri tipi di oggetti ovviamente non posso andare a fare un confronto perché magari non è definito un criterio di ordine quindi il minore il maggiore funziona sui tipi numerici che quindi possono essere cioè sui wrapper numerici che quindi possono essere convertiti in relativi tipi primitivi su cui fare effettivamente le operazioni di minore e maggiore di confronto in generale il compare to è definito su oggetti che hanno un ordinamento altrimenti non saprei veramente come confrontare quindi immaginiamo di avere degli oggetti che rappresentano i colori come faccio a dire che un colore è maggiore dell'altro non è possibile e quindi non è definito il compare to il compare to come l'equals è definito in tanti oggetti ed è definito anche ovviamente per le stringhe dove l'ordinamento è quello lessicografico standard per cui il compare to applicato a una stringa mi dà esattamente lo stesso criterio come ve l'ho menzionato adesso in chat di strcmp quindi s1.compare to s2 mi dà esattamente questo tipo di risultato e quindi posso andare a confrontare delle stringhe in termini di ordinamento lessicografico utilizzando il compare to domanda è possibile modificare le classi wrapper la risposta no le classi wrapper come tutte le classi di libreria sostanzialmente sono definite e quelle sono ok ne potete definire delle altre ecco questo sì potete definire delle altre classe che funzionano in maniera diversa quindi se volete un integer che funzioni in maniera leggermente diversa dall'integer di libreria potete definire un intero e ci scrivete quello che volete quindi fate le vostre classi ok quindi piccolo riepilogo abbiamo detto che le classi wrapper ci sono hanno lo scopo primario di incapsulare come suggerisce il nome il valore primitivo come scopo secondario quello di andare a definire una serie di metodi di conversione e sostanzialmente questo ci permette di andare a convertire i dei valori ad esempio da stringa a intero viceversa le classi wrapper hanno la caratteristica fondamentale di essere dei tipi immutabili le classi wrapper e anche le stringhe ok non abbiamo ancora parlato se non in maniera tangenziale ma anche le stringhe sono sostanzialmente analoghe alle classi wrapper e quindi sono anch'esse immutabili qual è il vantaggio di avere delle classi immutabili è che io posso tranquillamente andare a passare questi oggetti prememorizzati senza timore che mi vengano cambiati sotto il naso qualunque operazione di modifica su un tipo primitivo scusate su un tipo wrapper o su una stringa mi dà come risultato un nuovo tipo un nuovo oggetto wrapper o stringa ovviamente questo come stavamo considerando prima ha diciamo la controindicazione che vengono creati in un programma tantissimi oggetti questo problema viene bilanciato dal fatto che la virtual machine è in grado di automaticamente recuperare la memoria degli oggetti che eventualmente non sono più utilizzati ovvero non sono più puntati da nessun riferimento nel nostro programma e quindi si la memoria utilizzata viene utilizzata tanto si espande tanto ma la virtual machine tendenzialmente periodicamente recupera tutta la memoria che non è più usata attivamente la domanda cosa succede quando faccio parsinte di ciao ho un'eccezione e quindi il programma termina e quindi il parsinte di un numero intero funziona e mi dà il valore intero se io cerco di fare il parsinte di un qualunque cosa che non è un numero intero il risultato è un'eccezione ok quindi attenzione quando leggete dei valori e li convertite perché potrebbe bloccare il vostro programma vedremo più avanti che è possibile andare a gestire in qualche modo le eccezioni quindi in qualche modo bilanciare questo problema per il momento sappiate che se voi fate il parsinte di qualcosa che è un valore non numerico ottenete un'eccezione ok no non è possibile trasformare un carattere in un intero ok posso andare a prendere il carattere il singolo carattere e trasformarlo in un intero ma il parsinte presuppone che ci sia la rappresentazione di un valore intero in termini di caratteri domanda se ho una striga con vari numeri posso fare una scansione di quel tipo un modo di farlo è utilizzare ad esempio uno scanner quindi quando io ho un new scanner lo faccio al volo così lo vediamo meglio torneremo comunque poi sulla parte di input output di di analisi del testo perché ovviamente è una parte importante però se io vado a prendere come suggerivi tu una stringa s che è uguale a questo posso andare a creare un nuovo scanner sc uguale new scanner e lo inizializzo con s scanner allora mentre string integer system le classi che abbiamo già visto sono classi che sono automaticamente incluse all'interno di un programma e quindi sostanzialmente si trovano in un peg che ci si chiama java.lang che è automaticamente importato scanner è una classe che sostanzialmente non è nei package predefinito e quindi lo devo importare ok quindi eclipse mi dice guarda che non ha importato scanner a questo punto posso fare un int sc punto allora non ho importato lo scanner giusto direi scusate int i1 uguale sc punto next int ok double d1 uguale sc punto next double e poi int i2 uguale a sc punto next int non so se l'ho scritto correttamente ma allora mi dà un errore a variabile duplicata scusatemi qui chiamiamola ss che c'era già un s prima ok se eseguo non mi dà nulla ma non l'ho stampati però sostanzialmente mi fa la scansione ok è ovvio che però io qui se vado a mettere un x 234 scanner mi dice input mismatch perché si aspettava un intero ok quindi se non c'è un intero il problema si ripropone esattamente come come per il parsint ci sono tanti warning sì ci sono tanti warning perché sc i1 di 1 e i2 come suggerisce eclipse non sono mai in realtà sc chiuso e i1 non è mai utilizzato ok per cui stiamo usando delle variabili che non non utilizziamo lo scanner scanner scannerizza tanti tipi di variabili int double eccetera eccetera in generale e andate e andate a cercare nel package java utile la classe scanner scanner vedete che c'è tutta la documentazione come ci si aspetta che siano formatati i numeri e oltre ai costruttori ci sono snext eccetera eccetera che permette di verificare se c'è qualcosa e di andare a leggere il prossimo valore può anche andare a leggere non delle stringhe ma può leggere ad esempio una linea oppure può leggere dei singoli byte è pensato per valori numerici sostanzialmente o per stringhe in generale se vi da un mismatch è perché probabilmente la stringa che avete messo non è corretta ok ok osservazione corretta io ho come lingua impostata sul mio computer inglese e quindi i valori floating point hanno il punto se voi avete come lingua ufficiale italiano è ovvio che si aspetta che qui ci sia una virgola grazie del suggerimento per tutte le altre domande su scanner il riferimento è questo op polito it ap andate a cercare la documentazione in generale se avete un dubbio uno andate a cercare la documentazione due se non ve lo siete risolti vi scrivete un piccolo programma come vi dicevo all'inizio è una risposta generale a a qualunque problema ok perché ovviamente la quantità di dubbi che vi possono venire in mente sono tantissimi ok ovviamente io non riesco a rispondere a tutti ci sono dubbi più più concettuali e quindi ovviamente quelli non trovate la risposta a direttamente nell'API nella descrizione degli API se avete un dubbio su come funziona un metodo quello che potete fare è come vi dicevo guardare la la documentazione che è il primo punto in cui guardare e successivamente se la documentazione magari non è chiarissimo o avete ancora dei dubbi provare a scrivere un piccolo programma e questo dovrebbe tendenzialmente risolvere il vostro problema questo come come indicazione generale ok perché le librerie sono troppo ampie per poter andare a esplorare tutte ovviamente noi nel corso vedremo alcuni elementi delle librerie e tanti altri metodi o altre classi non non le vedremo e quindi la documentazione ufficiale è il primo punto in cui guardare ok l'importante è che sappiate quali sono le classi principali quali sono i metodi principali e abbiate un'idea di come funzionano dopodiché è normale nella diciamo nell'attività quotidiana di programmazione andare a guardare la documentazione ed eventualmente scrivere un piccolo programma di esempio il grosso vantaggio è che vedete alcune delle domande che mi avete fatto ho scritto al volo un frammento di codice e abbiamo visto come funzionava ok è un istante scrivere il codice e farlo eseguire a questo punto quello che vorrei fare è tornare a uno degli argomenti che erano oggetto delle lezioni che avevo pubblicato l'altro ieri ed è in particolare l'uso degli array questo è un argomento estremamente importante perché gli array in java sono molto molto diversi rispetto agli array in c mentre per i cicli for i tipi primitivi eccetera sostanzialmente quanto potete fare in java ricalca al 90% quello che potevate fare in c ok quindi non c'è un un grosso una grossa differenza nel momento in cui iniziamo a vedere gli array ecco qui le differenze si iniziano a notare pesantemente e quindi bisogna capire per bene gli array in modo di utilizzarli in maniera corretta in java il concetto generale di array è sempre quello ok è una lista ordinata una sequenza ordinata di elementi e io posso utilizzare un indice con operatore quadre per andare a recuperare l'elemento dato l'indice l'aspetto fondamentale da ricordare in java è che in java un array è un oggetto e quindi come tutti gli oggetti deve essere creato con l'operatore new ok quindi a me non basta dichiarare una variabile a di quadre 10 ok devo fare un'operazione di new devo creare l'oggetto in modo che venga allocata la memoria e solo a quel punto ho a disposizione il mio array questo è un passaggio che a volte si perde e quindi da qui nascono tanti possibili errori visto che è un argomento importante su cui è importante essere concentrati direi che possiamo fare una breve pausa diciamo riprendiamo alle 11.20 e a questo punto iniziamo a vedere nel dettaglio come possiamo utilizzare gli array in java ok quindi pausa e poi riprendiamo a parlare di array 11 questo esempio che abbiamo visto prima quello che posso fare dopo aver salvato tutto è andare a prendere il primo progetto vedete che qui c'è un asterisco indicando che comunque ci sono state delle modifiche e quindi io posso andare a fare team commit e andiamo a dire lezione del oggi è l'11.3 prima parte ok vedete che qua qua su in cima c'è l'url in cui si trova il progetto quindi commento qui sotto mi fa vedere le classi scusate i file che sono stati cambiati allora tolgo le preferenze perché potrebbero essere un problema classpath anche quindi vi lascio le modifiche le modifiche dei file ok quindi questo sostanzialmente cosa ha fatto ha preso il contenuto che c'è sul mio computer e l'ha trasferito sul repository se voi volete fare la stessa operazione quindi andare a vedere quello che io ho fatto recuperare i file l'operazione che dovete fare è fare file import scegliere svn in particolare checkout repository e poi andare a specificare un nuovo repository allora qui ci sono già quelli precedenti io vado a creare una nuova repository location e vado a mettere https op polito it slash svn slash op 20 21 slash ita 1 slash primo progetto a questo punto qui mi dice guarda che c'è tutto e mi chiede informazioni sul folder attenzione che a volte vi possono chiedere le password in realtà questo folder qui non è protetto da password ok voi potete anche prendere questo url e incollarlo nel vostro browser e avete sostanzialmente accesso ok e quindi se andate a vedere src e andate a vedere wrap la performance vedete che è esattamente sostanzialmente quello che abbiamo scritto prima abbiamo visto prima ok quindi torno un attimo qui next attenzione a selezionare la cartella con il progetto ok se voi partite da ita 1 avete tante cartelle una per ogni progetto quindi voi dovete selezionare la cartella che contiene il progetto altrimenti quello che vi ritrovate in eclipse non è un progetto ma è un qualcosa che non è leggibile dai clips come un progetto ok a questo punto se io faccio finish non lo faccio perché ho già un progetto che si chiama in questo modo se faccio finish sono in grado di importarlo attenzione che su questo se voi fate questa operazione di checkout del codice che vi metto a disposizione tutte le modifiche che fate sul vostro pc non potete poi salvarle ok perché io ho questo repository e l'ho messo in sola lettura per voi altrimenti ognuno di voi va a scrivere qualcosa sul repository comune di tutti ok l'unico repository su cui voi avete il permesso di scrittura è il vostro personale di cui avete ricevuto le credenziali ok quindi se invece quello che avete fatto è non andare a prendere il mio codice ma scriverlo man mano che lo facevamo assieme quello che potete fare è dato un progetto andare ve ne creo uno nuovo al volo perché questo qua è già condiviso vi creo un java project esempio una volta che avete il vostro progetto java con i vostri file se volete andarlo a memorizzare sul vostro repository quello che potete fare è fate un clic destro andate su team e poi su share project quindi team share project a questo punto vi chiede dove dovete andarlo a condividere scegliete svn next vi chiede dove andarlo a mettere create un nuovo repository location in cui andate a mettere https due punti slash op polito it svn op labs slash s 1 2 3 4 5 6 o comunque la vostra matricola e a questo punto il vostro codice va a finire sul repository non si eliminano le cose dal repository ok tendenzialmente il repository è un qualcosa che resta per sempre l'utilizzo che facciamo noi di subversion è base molto base quindi vedremo poi verso la fine del corso qualcosa in più su uso più avanzato per il momento vi tenete tutto quello che avete ricordatevi che questi repository sono puramente temporanei ok sono per questo corso quindi se scaricate l'ultima versione piratata di qualche film e me lo mettete su repository non è l'uso appropriato ok e ci sono delle conseguenze altra cosa che dovete sapere è che l'anno prossimo di questi tempi i vostri repository non ci saranno più ok quindi è un repository pensato per il corso torniamo a quello che dicevamo prima ovvero gli array è fondamentale capire come utilizzare gli array perché come vi dicevo prima sono molto diversi rispetto a quello che avete a disposizione in C quindi quello che io vado a fare è fare vi creo un nuovo package ok così vediamo l'uso dei package quindi quindi abbiamo i t pulito punto io 21 punto array quindi ho creato un nuovo repository dentro questo vado a creare una nuova classe e esempi array ci metto ovviamente un main perché così possiamo scrivere i nostri esempi ed eseguirli allora allora quando dovete andare a mettere qualcosa nei repository no allora una volta che voi avete creato la location che corrisponde al vostro repository generale avete fatto automaticamente ogni volta che voi fate un uno share project dal vostro Eclipse Eclipse va a creare una cartella dentro un repository che corrisponde al vostro progetto nel primo laboratorio per il primo laboratorio cosa faremo noi andremo a scrivere nei vostri repository individuali in quello di ciascuno di voi un progetto quindi creeremo nel vostro repository una cartella che corrisponde al progetto che corrisponde al laboratorio e quindi quello che dovrete fare non è salvare il progetto ma semplicemente andare a fare quello che vi faccio vedere prima io fare un import da subversion la posizione è quella del vostro repository andate a scegliere la cartella che corrisponde al progetto di laboratorio e a questo punto lo copiate sul vostro pc e iniziate a lavorarci e poi alla fine dovete fare quando avete finito il lavoro fare un commit e quindi vi daremo noi un progetto di partenza di cui fare l'import o terminologia subversion il checkout e quindi vi daremo il codice di base una serie di funzioni di metodi già predefiniti e vuoti quindi avrete già il punto di partenza su cui lavorare tra parentesi è lo stesso meccanismo che poi troverete in sede d'esame quindi dovete fare un import del progetto di partenza e poi fare un commit della vostra versione finale torniamo agli array abbiamo detto che gli array sono oggetti quindi quando io vado a dichiarare un int quadra ai ho dichiarato un array di interi la sintassi java di solito è questa con le quadre iniziali ok attaccate al nome del del tipo è anche possibile int scrivere int a i quadre ok le due sintassi sono entrambe corrette in java questa la prima è più java più stile java la seconda funziona ed è un po' più stile c è corretta una cosa che notate qui è che non c'è il numero di elementi perché non c'è il numero di elementi non c'è il numero di elementi perché sostanzialmente ai è un riferimento a che cosa è un riferimento all'oggetto array allora se scrivessi a uno a due avrei due array ok per la creazione del package ho fatto clic destro sul sul progetto e new package esattamente come creare una classe è solo che ho scelto un package invece che una classe e il nome del package è stato questo il tipo litro po21 punto array quindi non c'è la dimensione perché ai è un riferimento all'oggetto array e la dimensione la posso sapere cioè la devo specificare nel momento in cui io vado a creare l'array l'oggetto array all'oggetto array lo devo creare con una new quindi vado a dire ai uguale new int quadre di 10 e qui si che lo metto perché la dimensione dell'array è importante soltanto nel momento in cui io lo vado a creare come oggetto prima non me ne frega nulla so che quello è un array di interi ok quindi array di interi in realtà non è un array di interi è un riferimento a un array di interi qui si che creo un array di 10 interi quindi quello crea un array di 10 interi come quando creiamo un nuovo oggetto e gli attributi sono sostanzialmente inizializzati automaticamente a 0 oppure null anche quando vado a creare un array di interi i cui sostanzialmente gli elementi sono un po' come fossero degli attributi ok è un po' come se scrivesse una classe class array di 3 interi è come se mettessi un int elemento 1 int elemento 2 e int elemento 3 ok quindi sostanzialmente questo è un po' simile a quando faccio un new int di 3 e creo una specie di classe fatta così domanda ho creato un package come una classe ho chiamato un package come una classe tendenzialmente no nel senso che i nomi sono sostanzialmente diversi i package vengono utilizzati in due contesti diversi quindi bisogna di principio no quindi qui dentro ho 10 e 1 e 2 e 3 anzi e 0 e 1 e 2 e 9 che sono gli elementi del mio oggetto ok a questo punto esattamente come quando creo quando faccio new array di 3 interi questi sono implicitamente inizializzati a 0 anche nel caso degli array creati in questo modo tutti gli elementi sono inizializzati a 0 quindi posso fare for i uguale a 0 i minore di 10 più più i e poi vado a fare system out println ai di e questo mi stampa 10 zeri eccoli qua se volete posso andare a dire i più due punti più così ho anche l'indice da 0 a 9 ricordatevi che praticamente il 99% dei linguaggi di programmazione hanno gli indici degli array che partono da 0 ci sono notevoli eccezioni ma java non fa differenza in questo rispetto da c a questo punto a parte la dichiarazione non cambia molto rispetto a quello che avevamo in c in c avrei avuto un'unica dichiarazione del tipo int ai di 10 la differenza è che ai sarebbe stato un oggetto che si trova nelle variabili locali e non inizializzato in memoria dinamica ma a parte quello poi lo utilizzo esattamente nello stesso modo tuttavia ai in java è un oggetto e quindi ha metodi e attributi in particolare ai ha un attributo che si chiama length che mi dice quanti elementi ci sono dentro il ray ecco questo è già una grossa differenza rispetto al c ok l'oggetto array ha al suo interno l'informazione sulla dimensione mentre in c io non ho un oggetto array ma ho un'area di memoria suddivisa in elementi in java ho un oggetto array e quindi all'oggetto posso andare a chiedere ad esempio quanti elementi ha attenzione quell'attributo è in sola lettura ok e quindi non posso andare a dire ai.length uguale a un valore attenzione è un attributo ma è un po' particolare perché lo posso soltanto leggere println ln sta per newline quindi aggiunge automaticamente un a capo sì non mi funziona il sistema un punto out è una cosa un po' strana nel senso che hai sbagliato qualcosa nel resto non può non funzionare quindi array inizializzate automaticamente e che posso andare a scandire tranquillamente utilizzando un indice intero e quindi non cambia tanto rispetto a c tranne il grosso vantaggio di avere la lunghezza già dentro l'oggetto in java posso scandire gli array anche in un altro modo posso scrivere un ciclo for utilizzando una sintassi che si chiama reach int e uguale a scusate e in ai qui vado sostanzialmente a fare un una stampa analoga all'altra dove vado a stampare il mio elemento ok quindi il risultato è sostanzialmente analogo a quello precedente la differenza è che non avendo l'indice la variabile indice ho semplicemente gli zeri ma non ho anche l'indice quindi introduzione nuova del all'interno di java è questo tipo di costrutto che si chiama il for each ok introdotto in java 5 se ricordo bene per rispondere alla domanda è sostanzialmente come se qui oltre ad avere i miei elementi avessi anche un int length che viene inizializzato quando creo l'array esattamente for each vuol dire scusate ok per ogni possibile e nell'array ai esegui il corpo seguente ok questo se volete è la traduzione in italiano di quel for int e due punti ai eccetera cosa significa significa che viene fatto un ciclo e ad ogni iterazione e assume il valore dell'elemento successivo all'interno dell'array ai del nostro array interi quindi e non ha un valore unico in ogni interazione ha un valore diverso ed è l'elemento che è contenuto dentro il nostro ciclo quindi questa cosa qua è grosso modo equivalente a il ciclo ok non è proprio equivalente ma è circa nel senso che l'implementazione non è proprio la stessa equivalente a dire qui int e uguale ad ai i e poi qui andare a dire sostanzialmente e ok quindi è sostanzialmente funziona nello stesso modo l'unica differenza è che io scrivo questo e scrivo un for in te in ai è ovvio che questo costrutto for each non ha un indice ok non c'è o meglio è nascosto quindi se ci serve l'indice devo per forza utilizzare il ciclo for standard con la variabile indice se invece non mi interessa l'indice ma mi interessa semplicemente andare a scandire gli elementi lo posso fare in questo modo sì volendo potrei anche utilizzare una variabile indice in più esplicita qui però a questo punto tanto vale uso il costrutto for che è più semplice ok domanda non si può utilizzare un indice per riferirsi a una cartella dell'array diversa ai più uno allora se sono dentro questo tipo di costrutto qua l'indice non c'è e quindi ogni iterazione mi fa vedere un elemento domanda ma la variabile è un riferimento oppure l'elemento e allora dipende se parliamo di interi è la copia ok quindi se io qui vado a dire è uguale a 2 lo posso fare ma sostanzialmente vedete che erano zeri all'inizio sono zeri col ciclo col for each e alla fine restano degli zeri anche dopo con quest'ultimo ciclo in fondo ok quindi e è di fatto una copia quindi sostanzialmente questo è un modo pulito per andare a scandire un array e non ci tocco non torso toccare nulla se l'array fosse non di interi ma di oggetti ovviamente e sarebbe un riferimento all'elemento perfetto il fatto che il nostro array abbia tra gli attributi anche la lunghezza ci permette di evitare problemi di accesso fuori dai limiti ma consente anche alla java virtual machine di andare a verificare che gli accessi vengono fatti correttamente per cui è ovvio che lo dovrei fare apposta di andare a utilizzare un valore esterno però se invece di partire da zero parto ad esempio da meno uno cosa succede è che il nostro la nostra virtual machine al volo quando cerchiamo di fare un accesso fuori dai limiti ci segnala un array index out of bound exception e ci dice anche che guarda che hai utilizzato un indice meno uno su limiti di lunghezza 10 ok quindi e ovviamente ci dice guarda che l'hai fatto in la riga 22 del file esempiarray.java quindi se ovviamente se siamo in un ciclo for o siamo proprio scarsi come programmatori oppure tendenzialmente non abbiamo non commettiamo questo errore se utilizziamo degli indici invece calcolati in altro modo può succedere se succede che commettiamo un errore questo è il tipo di errore di messaggio che ci viene generato quindi di nuovo esattamente come null pointer exception anche in questo caso la Java Virtual Machine veglia sul fatto che noi utilizziamo correttamente gli oggetti presenti che non utilizziamo dei riferimenti nulli che non andiamo ad accedere alle elementi fuori dai limiti di un array quindi abbiamo tutti i mezzi per evitare questo tipo di problema ovviamente se commettiamo un errore la Virtual Machine ci blocca ovviamente come vi dicevo prima tutti gli elementi dell'array nel momento in cui andiamo a crearlo sono sostanzialmente inizializzati a zero che è un qualcosa che succede insomma è comodo evito di avere dei valori strambi quello che posso fare ovviamente è andare a scrivere dentro i nostri elementi e di uguale scusate ho sballato la linea uguale a i per i ok mettiamo dentro i quadrati non adi ma ai di e quindi vado a scrivere le nostre i contenuti dei nostri delle nostre shell ovviamente se faccio quello il risultato sarà alla fine 1 4 9 16 81 ok le prime righe queste forse quindi abbiamo la possibilità di leggere e scrivere all'interno di un array esattamente come abbiamo fatto in C ok questo tipo di accesso id è array3 interi è un esempio di classe analoga a quella che potrebbe essere creata non è un costruttore la classe che vi faccio vedere qua sopra è come potremmo immaginare ma è un vago esempio di come potremmo immaginare un array di tre elementi interi ok ci sono tre elementi c'è un attributo length e ci sarà un un'inizializzazione ok adesso la cancello perché era un esempio non c'entra nulla domanda è possibile creare una classe all'interno di un'altra classe se l'ho fatto evidentemente è possibile ok se no il compilatore mi avrebbe dato un errore ok di nuovo per tornare a quello che vi dicevo prima provate e vedete cosa succede comunque le classi all'interno di altre classi hanno alcune regole torneremo a parlare di di classi annidate poi più avanti ok ci ritorniamo perché in generale lo posso fare ma ci sono alcune regole di visibilità non banali di cui di cui parleremo poi più avanti però in generale è possibile farlo ovviamente io vi ho prima fatto l'esempio di una classe ma quando faccio un'operazione di new come ho fatto qui per andare a creare l'array in realtà ho creato una nuova classe ho creato un nuovo oggetto e quindi un nuovo oggetto di tipo il tipo è questo array di interi ok tutti gli array di interi sono sostanzialmente compatibili solo che oggetti diversi del tipo array di int possono avere lunghezze diverse la lunghezza dell'array viene determinata nel momento in cui io vado a creare l'array vero e proprio con new a questo punto vedete avete visto che per stampare io ho fatto questo ciclo che è sostanzialmente un po' scomodo ovviamente potrei andare a definirmi un altro metodo separato che mi permetta di stampare in realtà esiste una classe predefinita di nuovo nel package java.lang che è il package che è automaticamente importato in tutte le classi classe che si chiama arrays la classe arrays definisce una serie di metodi molto utili che possiamo applicare degli array ad esempio posso fare un array spunto to string del mio array ai e quindi posso semplicemente andare a fare un system out println di arrays to string ok adesso ho scritto correttamente quindi invece di stampare il tutto in questo modo posso chiedere alla classe array in particolare al suo metodo to string di convertirmi in string all'array e quindi di ottenere questa rappresentazione che vedete qua in fondo che è un po' più compatta quadre e tutti gli elementi separati da virgola che è un po' simile a quella rappresentazione che abbiamo fatto la volta scorsa a partire da una stringa scusate da una lista quindi se voglio convertire in stringa posso farlo tenete presente che oltre al metodo to string ci sono una serie di altri metodi se io vado a fare arrays punto vedete che ho una serie di metodi ad esempio un binary search che mi fa una ricerca binaria in un array ordinato poi c'è un metodo che si chiama compare che mi permette di fare un confronto copia copia di un intervallo equals che mi permette di fare il confronto tra due array fill che mi permette di andare a riempire l'array con un certo valore e vabbè soprattutto sort che mi permette di fare un ordinamento tutti questi esattamente sono metodi statici della classe arrays quindi se volete fare un ordinamento di un array potete esercitarvi ovviamente a scrivervi il vostro quicksort in java oppure potete utilizzare il metodo arrays punto sort di ai in questo caso non serve a nulla perché era già per come l'abbiamo costruito era già ordinato ma sostanzialmente arrays punto sort cosa fa? va a prendere gli elementi e me li riordina modifica l'array attenzione gli array non sono oggetti immutabili come le stringhe ad esempio ma sono oggetti che ovviamente posso andare a modificare allora l'ordinamento è crescente gli ordinamenti sono sempre crescenti ok? se non si dice nulla l'ordinamento è sempre crescente allora per chi visualizzava un errore ovviamente mentre scrivevo il codice in realtà Eclipse mi ha automaticamente aggiunto questo import ok? quindi java utils java utils punto array ok? e l'altra domanda che algoritmo se andiamo qua sopra la documentazione che vediamo qui ma possiamo anche vedere vi riapro la documentazione quindi quindi siamo in java utile e vado a prendere la classe arrays se vado a prendere il metodo sort che sta qua sotto questa è la documentazione online di arrays se vado a prendere il metodo sort ad esempio di int mi dice l'algoritmo di ordinamento è un dual pivot quick sort questo algoritmo ha una complessità n log n anche in alcuni casi in cui altre implementazioni di quick sort degradano a quadratico ed è generalmente più veloce della tradizionale implementazione con un unico pivot domanda la dimensione è qualcosa che non posso modificare successivamente esatto nel senso che una volta che ho creato l'array la dimensione è quella e quindi non la posso modificare altra domanda per il vettore di interi ciascun elemento contiene un int e non un riferimento int esattamente adesso arriviamo agli array di di riferimenti perché arrays.sort ha come parametro formale byte non int no array.sort ha come parametro int in realtà scusate torno un attimo indietro qui vedete che sort esiste un sort di byte un sort di char un sort di double un sort di float di int di long eccetera eccetera quindi esiste una variante di sort per tutti i tipi di array esistono anzi due varianti una su un array in intero e un'altra su un array che ha due indici per cui mi fa l'ordinamento soltanto degli elementi compresi in quegli indici ovviamente io posso andare a modificare gli elementi degli array quindi posso dire a di uguale a un qualunque valore come ad esempio avevamo fatto qua ok la la uno degli aspetti importanti dell'uso degli array è per l'appunto quello di permettere un accesso veloce agli elementi se dovessi utilizzare un metodo di get non finirei più ok quindi si chiamano array e non oggetti di elementi proprio perché utilizzano l'accesso tramite indice quindi più che una collezione di attributi e una collezione di elementi uso la notazione normale che utilizzo negli altri linguaggi per leggere e per scrivere ok a questo punto abbiamo visto alcuni elementi alcuni esempi di array di tipi primitivi e se volessi avere un array invece di persone o di string o di interi lo posso fare quindi posso avere un lo faccio di string e non di integer perché così cambiamo un po' posso fare uno string quadre ad esempio parole questo è un riferimento a un oggetto di tipo array di string l'oggetto array non esiste ancora l'oggetto array esiste nel momento in cui vado a scrivere parole uguale new string di 10 e qui di nuovo se pensiamo che quello è un oggetto e gli elementi sono analoghi ai suoi attributi tutti gli attributi sono automaticamente inizializzati a che cosa? tutti gli elementi inizializzati a null per cui se vado a stampare usando sempre arrays il tuo string di parole il risultato è null 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 perché? perché per l'appunto questo è un array di attributi tipo string string per l'appunto sono dei riferimenti quindi questo non è un array di string come non è una stringa neanche s in questo caso s è un riferimento a una string in maniera del tutto analoga parole è un array di riferimenti a string ok quindi immaginate gli elementi come fossero degli attributi ecco se voi mettete un attributo tipo string quell'attributo non è una stringa è un riferimento a string e esattamente come gli attributi di un oggetto vengono inizializzati a null tutti ok quindi attenzione a questo aspetto perché è fondamentale ed è normalmente la prima causa di errori nell'utilizzare degli array esiste anche un altro modo di inizializzare degli array che non sia tramite new domanda quindi prima si procede a creare riferimento e poi l'oggetto quindi esattamente come prima creò riferimento e poi creò l'oggetto anche con gli array prima creo l'insieme di riferimenti e dopo posso andarci a scrivere dentro quando io vado a scrivere dentro il mio array quindi posso scrivere parole di zero orale primo parole parole di uno secondo parole di due terzo eccetera se se rifaccio la stampa a questo punto ovviamente avrò semplicemente i primi tre elementi che sono diversi da nulli gli altri continuano a essere nulli e quindi quello che ottengo è primo secondo terzo e poi gli altri continuano a essere nulli però i primi tre elementi sono stati impostati normalmente quindi quando stampo ovviamente quando faccio un print di una variabile s stampo la stringa che è contenuta non l'indirizzo di memoria ok ricordatevi che questi sono riferimenti non sono puntatori quindi quando io stampo un riferimento è o quanto uso un riferimento è perché voglio andare a utilizzare l'oggetto puntato dal riferimento oltre a creare l'array e andare a riempire gli elementi un altro modo di inizializzare un array è quello di andare a fare un parole string quadre nomi uguale a inizializzazione come che di solito viene chiamata statica in cui vado a mettere Mario Sara Lucia Giovanni eccetera uso le graffe anche in C c'è questo tipo di inizializzazione quindi uso le graffe vado a elencare gli elementi ovviamente in questo caso non devo andare a mettere la dimensione perché la dimensione viene inferita automaticamente dal nostro compilatore nel momento in cui elenchiamo un certo numero di elementi a questo punto se io vado a mettere qui vado a stampare nomi quello che ottengo è quello che mi aspetto Mario Luca Sara eccetera eccetera ok domanda questo tipo di inizializzazione funziona solo come inizializzazione iniziale lo posso anche fare dopo lo posso anche fare dopo la sintassi varia leggermente per cui se ad esempio voglio andare a mettere parole uguale un'inizializzazione statica devo fare new string quadre aperta graffa alla fiera dell'est per due soldi in questo modo finiamo la lezione scrivendo il testo di una canzone a questo punto vedete la sintassi leggermente diversa devo mettere questa parte qua iniziale non metto la dimensione perché la dimensione è determinata dal compilatore il compilatore dice se tu mi dai un certo numero di elementi quindi qui sono sei parole io ti creo una re di sei parole non mi puoi dire che vuoi creare una re di dieci parole poi me ne dai cinque quindi la dimensione qua non si mette perché è determinata dal numero di elementi che definiscono il blocco statico di initializzazione di nuovo tanto per verificare quindi parole in questo modo in realtà l'array non viene sovrascritto viene creato un nuovo array e il riferimento parole punta al nuovo array e quindi quando dico parole uguali a new vuol dire che parole che è un riferimento punterà al nuovo oggetto quello precedentemente non è eliminato ma sostanzialmente non esiste più un riferimento e quindi diciamo diventa eliminabile dalla già la virtual machine quindi è irraggiungibile quando un oggetto è irraggiungibile è un oggetto di qualunque tipo quindi anche gli array prima o poi la java virtual machine potrà andarlo a deallocare come vi dicevo non è detto che lo faccia perché magari il programma finisce prima che sia necessario andare a recuperare la memoria quindi quell'area di memoria non viene mai esplicitamente dell'allocata ok quindi informazione fondamentale da ricordare sugli array in java è che gli array sono oggetti oltre agli elementi che sono accessibili tramite le quadre hanno l'attributo particolare che si chiama length che mi dà la lunghezza e che quindi mi permette di fare un sacco di controlli che altrimenti dovrei fare in altro modo se non avessi questo attributo dovrei memorizzare da qualche parte la variabile una variabile lunghezza eccetera eccetera quindi è decisamente più più complicato fondamentale sapere utilizzare gli array in questo modo ok quindi abbiamo visto come possiamo inizializzarli abbiamo visto come funzionano quindi quando dichiara un array e il tipo degli elementi è una classe significa che quello è un array di riferimenti e i riferimenti vengono tutti inizializzati a nullo gli array sono utilizzati abbastanza in vari modi allora ad esempio quando io voglio avere una classe che un oggetto che si riferisce a tanti altri oggetti come faccio a gestirlo allora vado a recuperare la nostra classe persona ok che abbiamo visto prima che era qua su la copio così evitiamo di fare pasticci qui nel package array quando trascino e faccio alt automaticamente mi viene creata una copia quindi vado a prendere questa persona a questo punto si trova nel mio array tolgo un po' di elementi e vado qui a creare una nuova classe che vado a chiamare azienda un'azienda che cosa avrà avrà un nome domanda se io faccio un'inizializzazione statica posso poi modificare gli elementi certo sì quelli che metto tra virgolette sono degli oggetti string quindi io avrò elementi del mio array che puntano con gli oggetti posso ovviamente cambiare il contenuto del mio array quindi sovrascrivere un elemento quindi sovrascrivere un riferimento in modo che punti a un'altra stringa e poi voglio andare a mettere gli impiegati della mia azienda ok diciamo i dipendenti ci sarà il diciamo il capo quindi private persona capo e poi i dipendenti come vado a implementare i dipendenti allora posso andare a usare delle liste come abbiamo fatto la volta scorsa però a questo punto vorrebbe dire che vado a o a creare una lista ad hoc per le persone oppure devo andare a modificare la classe persone in modo che possa essere inserita in una lista che non è ideale quello che posso fare è andare a mettere private persona quadre dipendenti ok e quindi posso definire un costruttore di azienda che riceve come parametro nome il capo e persona quadre i dipendenti dis.nome uguale a nome dis.k uguale a capo e dis.dipendenti uguale dipendenti creo una nuova classe così non andiamo a pasticciare troppo nell'altra con gli esempi esempi 2 quindi io posso avere tranquillamente una persona p uguale a new persona aveva mi pare matricola cognome nome ritrovo nome cognome ok 1 virgola maria drago e questo potrebbe essere il capo e poi ho persona quadre i dipendenti uguale a e qui posso utilizzare un'inizializzazione statica fatta in questo modo quindi posso fare new persona matricola 2 ok renzo matricola 3 matricola 3 persona 4 vedete che io posso utilizzare l'inizializzazione statica anche in maniera un pochettino più flessibile mettendo del new e quindi posso andare a creare la mia azienda a uguale new azienda acme il capo che è p e poi i dipendenti che sono ok per cui all'interno della mia azienda posso tranquillamente andare a mettere un public un void stampa giusto per avere una stampa dei contenuti che mi fa un system out ln nome più il capo e capo e poi system out ln i dipendenti sono raise punto to string di scusate non posso farlo perché non me li stampa correttamente ma adesso vediamo come fare e poi for persona di in dipendenti system out ln un tab seguito da di punto 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 Allora, ho messo un metodo. Allora, mettiamoci qua un metodo public string return piccola più pino nome più Allora, cosa ho fatto? Ho aggiunto dentro la classe persona un metodo come stringa che mi restituisce una stringa che rappresenta il dipendente. Quindi a questo punto il metodo stampa che stampa il nome dell'azienda seguita da virgola capo il nome, scusate, capo punto come stringa. Poi dipendenti e poi faccio un ciclo per tutti i dipendenti, delle persone che stanno in array dipendenti e stampo il dipendente come stringa. Il metodo come stringa dentro la classe persona, quello che ho scritto adesso al volo, sostanzialmente cosa fa? E' un ritorno di una stringa e con catena la matricola, un trattino, il cognome, virgola e il nome. Quindi se io vado a prendere la mia classe di esempi, quando vado a chiedere la stampa dell'azienda posso fare appunto stampa e questo dovrebbe stamparmi se non ho commesso errori. Il nome dell'azienda, il capo e i nostri tre dipendenti. A questo punto cosa succede se io volessi aggiungere un nuovo dipendente? Ok, vi faccio rivedere il codice dell'azienda. Ok, è questo. C'è semplicemente un costruttore e poi il metodo stampa. Allora, se vogliamo aggiungere un nuovo impiegato, opzione 1, aggiungiamo una riga qua. Ok, no, immaginiamo che l'impiegato per dire lo vogliamo leggere, vogliamo sapere il nome leggendolo da un file o da tastiera. Oppure arrivi tanto tempo dopo l'inizializzazione. Per cui, in qualche modo, ho costruito una persona. P uguale new persona e abbiamo qua impiegato 5 A me piacerebbe, allora P, scusate, questo qua P2, perché P esiste già. Mi piacerebbe molto avere a disposizione un metodo nell'azienda in cui posso fare azienda, appunto, nuovo. Comunque, aggiungi dipendente e qui passo P2. Il metodo non c'è, ma lo vorrei scrivere in modo che, dopo aver fatto questo, posso fare a.stampa e mi ritrovo il nuovo dipendente. Creiamo il metodo Ora, è ovvio che il mio array ha tre elementi. Come faccio ad aggiungere un quarto? Gli array non possono essere ridimensionati, ok? Gli array sono quelli, li creo di una certa lunghezza e non li posso modificare. Esattamente. Dobbiamo creare un nuovo array in cui andiamo a copiare quelli del precedente e poi aggiungiamo un ultimo. C'è la nuova persona, ok? Quindi, una possibilità è dire persona array nuovi uguale new persona di quanti elementi? dipendenti punto length più uno domanda quindi Java non è una sorta di realloc? Non esiste un realloc anche perché in Java la memoria non è trattata direttamente e abbiamo degli oggetti dentro quindi non è banale ve lo faccio vedere in una maniera più semplice e poi vediamo una serie di varianti possibili prima possibilità dimensioni più uno for i uguale a zero i minore di dipendenti punto length più più i quindi nuovi di uguale a dipendenti di quindi copio esattamente i dipendenti che c'erano già prima e poi vado a mettere nuovi di dipendenti punto length è uguale a p2 ho creato il mio array a questo punto cosa faccio? devo mettere questo nuovo array al posto dell'altro e lo posso fare in maniera molto semplice dicendo dipendenti uguale nuovi p2 non mi piace molto quindi vado a fare un refactor e lo chiamo nuovo dipendente ok a cosa serve i dipendenti uguali a nuovi? beh sostanzialmente io ho creato l'array con i nuovi dipendenti che è uguale a quello precedente più il nuovo dipendente qui cosa faccio? vado semplicemente a dire l'attributo dipendenti a questo punto invece di puntare al vecchio array che conteneva soltanto tre dipendenti adesso punta al nuovo array che ne contiene tre più uno quattro ricordiamoci ricordiamoci che dipendenti è un riferimento ad un array di persona quindi in questo modo faccio puntare il mio attributo un riferimento ad array al nuovo array quindi questo mi permette di andare a aggiungere un nuovo elemento sostanzialmente quando abbiamo a che fare con gli array l'unico modo è quello di andare a riallocare un nuovo array e copiarci dentro domanda a questo punto possiamo fare un system gc per liberare il vecchio array teoricamente sì ma è una cosa che non si fa mai ok non si chiama mai l'allocazione non si consiglia mai alla Java Virtual Machine di fare una deallocazione ok la deallocazione è un qualcosa di cui noi non dobbiamo preoccuparci a meno che stiamo scrivendo un'applicazione ad alta disponibilità e quindi dobbiamo considerare anche questi aspetti normalmente in Java la deallocazione è un qualcosa che noi ci dimentichiamo completamente adesso tanto per essere sicuri di non aver scritto delle stupidaggini rieseguiamo il nostro programma in cui abbiamo il nostro nuovo dipendente aggiunto alla nostra azienda ok varianti come qualcuno di voi suggeriva un attimo fa una possibilità è quella di dire invece di allocare ogni volta un nuovo array con un elemento aggiuntivo potremmo avere un array di dimensioni più grandi quanto beh dipende da quanto ci aspettiamo possa essere grande un'azienda e poi invece di allocare ogni volta ci teniamo un un contattore che dice quanti elementi quanti dipendenti abbiamo per il momento e andiamo ad allocare un nuovo array soltanto se abbiamo riempito il nostro array precedente ok soluzione ragionevole altra possibilità è quella di andare all'interno del nostro della nostra classe arrays e fare un metodo che si chiama copy of copy of aspettate copy of di un certo tipo posso andare a specificare una lunghezza che è uguale alla lunghezza attuale più 1 ok quindi in alternativa in maniera un po' più efficiente quello che posso fare è invece di scrivere questo andare a dire nuovi uguale arrays punto copy of e la lunghezza è dipendenti più 1 ok scusate copy of devo andare a mettere anche l'array da cui voglio copiare quindi questo in maniera un po' più efficiente rispetto al codice che abbiamo commentato prima ma sostanzialmente in maniera del tutto equivalente in termini di funzionalità crea un array di dimensioni dipendenti più 1 di dimensioni punto l'an più 1 ci copia dentro i riferimenti che sono già dentro dipendenti e ci restituisce il risultato quindi questo sostanzialmente ci dà esattamente lo stesso risultato di prima ok potevamo fare anche direttamente dipendenti uguale a race.copyof dipendenti sì allora i metodi clone sono dei metodi che vengono utilizzati in casi particolari il metodo clone sostanzialmente mi crea una copia identica ed è un allora esiste un metodo predefinito clone per tanti oggetti ma si usa in casi molto particolari quindi in generale no anche perché clone mi avrebbe creato un array esattamente identico io invece ne voglio uno più lungo più grande se volessi ordinare un array in base al cognome sì dovrei usare un approccio particolare che vedremo tra un po' ok perché bisogna bisogna capire come funzionano le reddità per capire come funziona l'ordinamento fatto ad hoc allora se invece avessi un array di persone da aggiungere dovrei fare l'azione di aggiunta singola per ogni dipendente allora sì altra possibilità che è un'estensione di questa se io invece di avere un'unica persona da aggiungere avessi un array di nuovi dipendenti che voglio per cui magari ho fatto un'assunzione non di un unico dipendente ma di tanti quello che potrei fare è vi scrivo il metodo per aggiungere non un unico dipendente ma un array è analogo quindi persona quadre nuovi dipendenti che cosa faccio invece di sommare uno qui metto nuovi dipendenti punto l'ent qui crea un array che è quello di partenza più quello successivo ok a questo punto qui non vado ad aggiungerne soltanto uno ma di nuovo volendo fare la cosa veloce quindi posso dire dipendenti uguale così e poi devo andare a fare un for int i uguale a no scusatemi così non funziona perché devo ricordarmi la dimensione dell'altro ok quindi poi i uguale a dipendenti punto l'ent punto virgola i minore di nuovi punto l'ent incremento e dopo di che nuovi di i uguale a nuovi dipendenti di i meno dipendenti punto lente e poi torno indietro più un certo numero di varianti ok allora questo è vedete la struttura è esattamente la stessa altra variante prendetelo come esercizio da fare a casa diciamo che io qui quando inizializzo invece di inizializzare un array che è uguale a quello che mi viene passato inizializzo di spunto dipendenti uguale a arrays punto copy of dipendenti virgola e gli do una dimensione che è non so due volte la dimensione per di quello lì di partenza e quindi crea un array che è più grande in modo da evitare di dover rialloccare l'array ogni volta ovviamente qui devo andare ad aggiungere un int numero dipendenti e dis punto dis punto numero dipendenti è uguale a la lunghezza dell'array che mi viene passato come posso modificare gli altri metodi quindi copy of che cosa fa prende questo array e lo copia in un nuovo array che ha come dimensione questa nel caso della della copia che abbiamo visto sotto cosa succede prendo prendo i dipendenti e li copio in un nuovo array che ha come lunghezza il numero di dipendenti di prima più uno ok? a questo punto c'era un'osservazione prima attenzione che io qui ho utilizzato capo appunto come stringa perché se vado qui e provo a stampare system.out.print ln e stampo p quello che ottengo è di tipo litopio array punto persona chiocciola eccetera eccetera perché? perché sostanzialmente il println non sa come stampare una persona quindi che cosa fa? stampa il nome completo della classe dell'oggetto che sto cercando di stampare quindi il nome dell'array punto persona se vi ricordate il nome completo è array scusate package punto nome persona poi mette chiocciola e poi mette questo che si chiama rashcode ed è prendetelo come fosse l'indirizzo in memoria dell'oggetto ok? non è esattamente quello ma tanto per intenderci è un grosso parente dell'indirizzo in memoria quindi quando io cerco di stampare qualche oggetto che non ha un modo standard di essere stampato ecco che ottengo quello attenzione anche se io cerco di stampare d che è l'array e provo a stamparlo direttamente così il risultato è vedete lista tra quadre quadra l sta per lista di che cosa? di it polito persona e poi et e mi dà questa cosa qua che è di nuovo l'ashcode dell'array perché l'array è un oggetto se io voglio stampare il contenuto dell'array devo utilizzare arrays.toString che cosa fa? prende tutti gli elementi li converte in stringa e mi genera il risultato o meglio ancora come abbiamo fatto dentro la classe azienda nella stampa scusate sono qua vado a scandire tutti i dipendenti li converto in stringa e li stampo ok quindi esercizio per le notti insonni provate a vedere come funziona come è possibile andare a modificare il codice andando a creare un array che è più grande quindi tenendo traccia di quanti sono gli elementi secondo esercizio che potete fare come esercizio aggiuntivo sto per familiarizzare un po' con gli array provate a creare una classe di tipo stack quindi funziona come una una lista l'ifo che gestisca degli interi e realizzatelo non con una lista come potrebbe venire ovviamente ma utilizzando degli array ok a questo punto vi ricordo che se voi andate ad aprire il repository che si trova qui trovate la cartella primo progetto con questo progetto su cui adesso vado a creare il vado a scrivere le ultime modifiche che abbiamo fatto quindi il link è questo che è sostanzialmente quello che vi metto qua in chat ma che vi rimetto poi anche su slack quindi ce l'avete ricordatevi che quando dovete fare l'import di un progetto non dovete importare tutto questo ma dovete andare a selezionare la cartella primo progetto perché quella contiene un progetto ok ovviamente se fate uno stack dovete creare i metodi push pop size empty eccetera per andare a verificare se è vuoto per andare a vedere quanti elementi ci sono ovviamente per fare il push e il pop degli elementi sullo stack ok a questo punto direi che per oggi abbiamo concluso e chiudiamo qui la lezione odierna quindi fermo la registrazione grazie grazie grazie